Hanno appena aggiunto un'arma che è a dir poco fantastica, è un mitragliatore, è gigantesco tipo super mega gigantesco Ha un solo caricatore che può arrivare fino a mille colpi e spara raffica in una maniera incredibile Distrugge tutto quello che incontra, ma non è molto mirato Ferre, mi sembra anche abbastanza logica come cosa E beh è anche giusto, è anche giusto Io l'ho provato un pochino e ti garantisco che quando stavo spando i player stavo colpendo lampioni, alberi, case, piccioni Ho preso un po' di tutto, però comunque i player sono morti, quindi immagino che sia una buon'arma E quest'oggi cercheremo ovviamente di ritrovarla E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E sono Stef, perché si giochiamo a Fortnite E benvenuti nel nuovissimo episodio di Fortnite in cui cercheremo di trovare e provare la nuova arma che è appena stata aggiunta, giusto Stef? Esattamente, io in realtà l'ho già provata, quindi mi interessa abbastanza poco Eh lo so, lo so Però è talmente bella che la voglio ritrovare E infatti mi vuoi far rosicare Stef, però adesso scendiamo, tu avrai la tua solita fortuna e la troveremo subito, ok? Non lo so, perché non so neanche dove scendere Ferre, non vorrei incontrare troppi player così subito secchi Perché magari dobbiamo subito fightare Magari andiamo qua Ok Poca gente, posto abbastanza tranquillo, poi ci spostiamo e andiamo in posti più cattivi piano 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 Magari, sai, direttamente troviamo il player che l'ha trovata Ce lo facciamo subito secco Eh speriamo, speriamo Ce la rubiamo e ce ne andiamo a casa Comunque, cose che ho notato provandola Prima di tutto, bisogna tenere premuto il tasso sinistro per sparare Perché praticamente inizia a girare come un minigun classico E spara soltanto dopo che sta girando velocissimo Quindi per forza di cose non si possono sparare qualche colpo e spostarsi Ma bisogna stare fermi di posizione, che è un bel problema E sparare a raffica Quindi è un'arma diciamo che in un combattimento secondo me Abbastanza statica Ha dei difetti, ha dei difetti grossi in un combattimento Due contro due, uno contro uno, quello che è Mentre per distruggere però delle piattaforme, delle strutture eccetera eccetera Diventa devastante Perché in quel caso lo stare fermi non è un problema C'è anche da dire che se non dovesse stare così fermo sarebbe troppo Quindi mi sembra anche giusto Mi è sembrata abbastanza bilanciata Devo provarla ancora un pochino per capire Comunque così Stef Dimmi Viola, lo scar Così Era qui Non potevi direttamente trovare il minigun così era mapposto No sarebbe stato bello però ho trovato questo di certo non me Ce lo facciamo andare bene Certo, certo che me lo facciamo andare bene Per forza in questi alberi comunque intanto si trova qualcosina Quindi devo controllarli La mia prima chest non mi ha dato ciò che volevo Adesso qua mi sembra che ce ne sia un'altra Quindi comunque sono felice Io vedo nella casa di fronte Ok però va bene Cerca di avere un po' di fortuna per favore Sì non mi sembra che ci siano player e ne approfitto Perché di solito anche qua si trova sempre una bella cesta E quindi vediamo un pochettino Altra cosa che io volevo dire nel mentre che continuo a distruggere E sperare di trovare l'arma Domenica alle 11 ci sarà una sorpresa Alle 11 di mattina 11 del mattino ovviamente Ci sarà una sorpresa Quindi dovete tenervi pronti con fortnite E dovete tenervi pronti controllando il community post Perché andremo a scrivere lì qual è la sorpresa E come diciamo a partecipare Diciamo che se devo fare un piccolo spoiler Avrete la possibilità di giocare con noi a fortnite E sarà una figata È già detto troppo Ho già detto troppo Mi raccomando domani domenica 11 del mattino Fortnite apertissimo E pronti a leggere il community post Per una bellissima sorpresa PC sia console Non siamo sicuri che console funzioni Ma speriamo di sì Perché non l'abbiamo mai trovato Allora dovrebbe essere sia per PC che per console Però vabbè sicuro al 100% per PC PC è la garanzia Provate anche con la console Mettiamo la qui Ferre non l'hai trovato? No non c'è una cesta Neanche a pagarla qui dentro Steph Ah proprio non c'è la cesta No non c'è la cesta Mi sa che ce l'ho visto Ok Uno alla mia destra Ok E l'altro? E l'altro secondo me ci viene da dietro Vieni 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 Usciamo dal retro Ok anche se mi serviva poi col fucile lì sopra verde Dato che io sono equipaggiata Ok vieni In questo momento Ok Ok Allora noi praticamente facciamo una scaletta qua così Ok Ce la facciamo Cerchiamo di sbirciare Esatto Non vedo nessuno eh Ok Secondo me hanno l'arma Me lo sento Ce l'hanno loro Sul tetto Sì Uno e due Ok tu hai qualcosa per spararli? Eh sì Ho il fucile a tre colpi Ok Ci arrivano da destra Ci arrivano addosso Io ci provo ma lui è al pompa Uno è a terra Due a terra Dai non ce l'avevano Cosa? Non ce l'avevano Non lo so ma che ti devo dire Ringrazio che comunque abbiamo vinto Allora mi serve Allora mi serve Questo mi serve assolutamente Poi vediamo cosa mi posso prendere Il fucile a cecchino Me lo prendo molto volentieri Shildino Anche lo shildino Questo me lo bevo Che noia Dannazione Avevano un sacco di loot Speravo lo avessero preso Almeno loro Allora Ricarico Avranno luttato tutto per di più? Eh Non lo so Forse sì Perché sembra di sì Hai un attimo Ma non ho idea Non ne ho La più pallida idea Comunque è un altro game Perché nel game precedente Non abbiamo trovato Molto molto semplice il discorso Ovviamente Continuiamo a girare intorno E non trovarlo Continuiamo la nostra ricerca infinita Prima o poi ci andrà bene Per forza Dai Io non lo dico Io non uso dirlo sinceramente Allora però Questo posto Mi sa che è l'unico Che loro non avevano lootato Perché qua non l'hanno sfondato Ok ottimo Infatti sento una cesta Che di sicuro sarà quella di sotto Devo capire però se c'è Anche quella lì in alto Infatti c'è Dai Dai è l'unica Che non avevano aperto Eh sì Bene due addirittura Quello è quello leggendario O quello epico Eh quello leggendario Dai Visto che ne hai trovato così tanti Probabilmente ne troveremo Un altro nella prossima cesta No Non è possibile Steph Abbiamo una sfortuna incredibile Quante cesta avremmo aperto Una ventina Non lo so Sì probabile In realtà stiamo provando A registrarlo da tre ore Quindi in realtà Una cinquantina Probabilmente almeno 50 cesta Abbiamo aperto Perché non riusciamo E io ieri l'ho provvisto Cinque volte Cioè l'ho trovato instant Poi ho ammazzato gente Che ce l'avevano È sempre così Quando registri Poi non lo trovi È la logica Del fare video Vabbè Andiamo a caccia Andiamo a caccia Andiamo a caccia Non è un problema Se il gioco ci vuole far cacciare Noi caceremo È un detto strano Sì Hai sentito? Visti 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 Vedi Ah sì Fight difficile Perché stiamo andando in mezzo A due team Sì Però ne vale la pena Doppia probabilità che ci siano Allora lasciamoli fightare Esatto Iniziamo a posizionarci Nel punto giusto E poi killiamo il team che vince Allora uno l'ho visto Lì dietro la roccia Loro stanno buildando Ok Ok Granate Li tirano un po' di tutto C'è di tutto qua Allora Loro due li vedo E li potrei ammazzare Se qualcuno ti sparasse alle spalle Vero? Non facciamolo Non è una buona idea Perché poi dobbiamo fightare due volte Allora ci sono quelli là Questi qua che corrent Penso che Allora un team sta lasciando l'altro Cercando di lasciare Esatto 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 Sì Mamma mia quanto li vorrei sniperare Nel mentre Tanto siamo anche attaccati alla zona Quindi ci possiamo perdere anche un po' di tempo In questo posto Sai che secondo me Però questi che abbiamo alle spalle Sono due contro uno Dici? Sì Sono sicuro Hanno vinto Hanno vinto Ci ho provato Porca miseria Ferre Non devi essere la prima che spara Certo che devo Ah Adesso si fa tutto più difficile Allora Dove sono loro? Ok Ok Colpito una terra Buttiamo a terra anche l'altro Dai E che noiosi Quando costrui Vabbè giusto costruire Io lo capisco Ma mi dà fastidio Se avessimo L'altra cosa L'altra arma Vai ferre Continua Io però Pochi proiettili Steph E questo continua Oh prima Quello e finirai Sti accidenti Eccolo Eccolo Sei riuscito a spararlo? Vorrei caricare No aspetta aspetta vai Colpito Colpito Yes E eliminato Vai Dai che ce l'avete Quattro team Cioè Quattro player Non ce l'aveva neanche uno No Ma porca miseria Steph Non funziona neanche andare a caccia di player Lasciami munizioni Ti prego soprattutto del fucile a pompa Che ne ho tre Allora C'è un medikit Prendilo per curarti Lo prendo io Fucile a pompa blu Lo cambio Lancia granate Lo cambio con questo Fare Era per noi? Eh non lo so Forse era un airdrop No A me è sembrato uno sparo Credo Suppongo Aspetta Così Ti fulli Poi mi hai chiesto munizioni Eh del fucile a pompa Ne ho tre Ne ho sempre avute tre A dire la verità Quindi non lo posso utilizzare Ok Dell'altro ne hai? Fucile d'assalto? 53 53 Te ne do almeno un pochino Tieni Ok grazie Ok io mi sparo uno shield E ce ne andiamo Porca miseria Cioè io ho due kill Tu due kill Siamo a quattro kill E ancora niente E ancora niente Non funziona andare a caccia di player Steph Lo so che non funziona Non funziona Lo so ho notato Perché sono tutti sfortunati oggi Allora Vedo l'airdrop atterrato Secondo me loro stanno andando lì Ok Secondo me lì c'è l'arma Quindi se vinciamo contro questi due Ci prendiamo l'arma Altrimenti Altrimenti continuiamo a sparare Nel nulla Perché che cavolo Allora Io la voglio quest'arma oggi Ok li vedo Stanno sparando con l'RPG Perché c'è l'altra gente Eh ma è pieno Andiamo? Almeno ci divertiamo no? Non ho una buona idea Aspetta Moriremo prima di avere quell'arma Non sparare col cechino Ok Aspettiamo di trovare qualcuno di davvero fermo Allora dimmi tu quando sparare Così non mi rompi Solo quando c'è gente completamente ferma Che sta mirando qualcun altro E non si aspetta di poter essere snepperato Quello è completamente fermo dietro la roccia Guarda posso fare così Aspetta Aspetta Alla mia sinistra Aspetta Aspetta Aspettami Yes Bravi Bravi Occhio che sparano Sì Ho sentito Perché ovviamente ci siamo messi all'interno di un fight in cui non c'entravamo nulla Gigi player vivi Ma che cavolo sta succedendo? Non lo so Io cosa me lo prendo però Aspetta Fermati a lutare Dai Beviti uno shield Qualcosa Perché Dai su Dai 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 che vi snipero No non volete Steph che vi snipera? No non vogliono Va bene Dimmi che non c'è l'arma perché altrimenti li inseguono Non mi sembra che ci sia Guarda quanti loot È una roba incredibile Eh sì Ok C'è stato un bel fight qua Eh quello si è tiato a scillini ma era dietro un albero Porca miseria Noi abbiamo un altro da lutare qui Se loro lo vedono potrebbero venire E li facciamo l'agguato Ok Se invece non lo vedono e se ne vanno Ci vediamo cosa abbiamo trovato anche noi Ah lo vedo che sta correndo lì Vedi che continua a correre Verso destra? Sì Ma è sempre lo stesso No vedi sono due Sono due lì 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 Sì sì se ne vanno no? Sì 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 Ok Controlliamo il nostro loot Ok È morto No C'è l'RPG leggendario mi è reluto Porca miseria Infatti ho detto cavolo è zitto L'avrà trovato Tieni questo Ah non è giusto però Hai un po' di colpi? Eh boh forza È depressa Non so cosa cambiare sinceramente Perché ho già tutto quello che mi piace Secondo te Cos'è quella roba leggendaria Che sbillucica lì? Forse è una pistola Airdrop Vi prego Ok ne vedo Uno a duecentodieci Andiamo? L'ho scambiato con il fucile Col mirino Dai Fede siamo a sei player Sono un po' triste Siamo a sei player restanti Abbiamo sei kill totali Sì ma Steph Dovevamo trovare un'arma Una Lo so Una Cosa ti devo dire? Sicuramente quei due che abbiamo visto adesso vanno anche qua Allora Ricapitoliamo A parte che siamo qui da tre ore a registrare Però Sì In questa sessione di registrazione Sì Primo game Non abbiamo trovato niente Mi ho detto dai proviamo a farne un'altra Andiamo a caccia di player stavolta E non funziona neanche così Cioè che dobbiamo fare? Anche riuscendo a fare caccia di player Fare un patto col diavolo Steph Non lo so Perché io davvero non lo so che ci vuole per trovare Allora Eh Ferro stanno anche bullando Eh ovvio Qua rischiamo solo di morire per quell'aerdrop Aspetta un attimo Perché ho più mattoni che legna? Non è normale sta cosa Eh lì sono belli in alto Quindi Sicuramente hanno una bella visione Lo so Però non capisco se lo vogliono Ma che faccio? Rissa? Ce li sparo? Non lo so Che dici? Cioè puntiamo almeno All'aerdrop a vedere che succede Vediamo Pronti a spararli? Uh Se ne va Ma è solo? No No Ok Ok Li vedi? Sono lanciati di cattiveria Sì Stanno cercando di capire dove siamo Perché non l'hanno ben capito Infatti non farti vedere troppo Esatto Infatti sto molto Molto nascosta Ok io uno lo vedo Non vedo l'altro Il che mi preoccupa È a fianco a lui Sono a fianco Uno dietro l'albero L'altro si mimetizzava Ok colpito Ma che cavolo stava a falli ferro? Gli ho tolto 100 di shield E un pochino di vita Quindi adesso sono in svantaggio Per il fight Continuo a sparare qualche missile Intanto guardati intorno Perché ci manca solo Che ci sniperano da dietro Ok Finisco di urlare Se succede una cosa del genere Puoi contare Ok Lì continuiamo a buttar giù Un po' tutto Però la vedo dura Lo so La vedo davvero 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 dura Lo so Siamo anche fuori dalla zona Quindi non possiamo So anche questo Dilungarci troppo in questo fight Insomma Infatti li sto letteralmente odiando Anche perché non Oh Hanno provato a colpirmi Eh ma perché Li sparano Li sparano Li sparano Poverini questi qua Corri all'airdrop Corri Ok Sono molto intenti Ovviamente a feitare Perché Siamo due contro due Vai 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 L'airdrop Dai Vai Steffino Ma Prendilo Cosa devo fare Prendi Che cos'è Il RPG leggendario Non lo vedevo da qui Che pretendi Mi sta venendo un nervoso incredibile oggi Non è possibile questa cosa Allora Prendiamo munizioni Riesci a venire veloce qua Sì 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 Sto dietro di te Quindi per forza che ce la fa Ci tirano granate Porca miseria Sto dietro di te Ce l'hanno loro Dobbiamo ucciderli Scendi 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 Ok Lo voglio Deve essere mio Non può finire questo modo Non può Stef Maledizione Cavolo se dovete morire Cioè dovete morire No 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 Granata qui Granata qui Via 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 Andiamo via Andiamo via Andiamo via Sì sì Sto bullando Sto bullando Sì 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 Vai 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 Via 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 Ok Dobbiamo entrare nella zona eh Aspetta No 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 Mi ha buttato giù qualcosa o qualcuno Stef Mi stanno tirando cose È lì È lì Lo vedi con l'arma nostra Ah È stata fortissima contro di noi È stata fortissima Cioè non faceva buildare nulla Proprio come pensavo Anche perché lo condiva con l'altro che sparava È lui che lì a raffica Continuava a distruggerci tutto Vedi com'è forte Cioè l'unica volta che troviamo un team contro Che ce l'è È la fine in due contro due In endgame così Con noi che stiamo sotto di loro Che era una sfiga incredibile Non avessimo preso quell'airdrop Stavamo dentro la zona da un altro lato E il fight era totalmente alla pari Magari vincevamo il game Assolutamente sì Per prendere l'airdrop Per non trovare l'arma Stavamo continuando a cercare quell'arma Ah che rosi Ragazzi lì ci stessi tutta Lasciateci un like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao